per noi è un onore suonare qua a Leoncavallo io con Massi e Enrico come dicessimo abbiamo suonato a Leoncavallo nell'85 insieme a Tocchi Prison una bella cosa volevo ringraziare Beppe che ha organizzato la sua cassa ragazzi non ho provato grazie ragazzi che ci avete ospitate ci stanno facendo queste cose si ma noi ah può ah 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 no ah 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.